Musica Buongiorno, ben svegliati per ritrovati con la nostra rassegna stampa in questo giovedì 14 dicembre. Siamo pronti per andare a leggere le testate regionali e nazionali e vedere le principali notizie di questo giovedì 14 dicembre, partendo come di consueto in questa prima parte dalle prime pagine. Allora partiamo dai giornali di casa nostra, le quattro edizioni del quotidiano Il Centro, questa è l'edizione di Pescara, l'apertura è dedicata agli spettacoli natalizi e al traffico che sarà limitato. A Pescara stoppa le auto in viale d'annunzio, sul corso eventi che saranno annullati. Saliamo in alto, sotto la testata perché ci sono questioni che riguardano la politica nazionale ma non solo, anche quella regionale. Di Maio, le priorità per l'Abruzzo, intervista esclusiva al Vice Premier dei Cinque Stelle, oggi il tour proprio di Luigi Di Maio nella nostra regione. Allora da Roma in Abruzzo invece, Lolli Raggi, il voto innesca la guerra dei rifiuti verso le regionali. Altro box, centrodestra, salta il tavolo, torna tutto in alto mare. Nella foto vediamo Marco Marsiglio di Fratelli d'Italia che era stato indicato e tuttora indicato come il più probabile candidato governatore per il centrodestra, evidentemente da quello che leggiamo così potrebbe non essere a centropagina, viagli abusivi da Fontanelle, murate, le case popolari sequestrate, gli appartamenti occupati dagli irregolari. Poi nella seconda parte vedremo anche il servizio realizzato dalla nostra redazione. Nelle cronache, l'inchiesta, frode al fisco, indagato noto imprenditore. E poi la donna uccisa alla stazione, il super test, ho visto Anna con quell'uomo. Francavilla, liceo al freddo, oltre 300 alunni allora decidono di fare sciopero per non passare le ore di lezione al freddo. In basso lo sport, come vediamo, si avvicina lunedì sera il momento di Verona Pescara. Grosso Pescara, la sfida del cuore, il tecnico alla guida del Verona lunedì affronterà la sua città. Non solo l'avvicinamento a Verona Pescara, Europa League, calcio internazionale in lacrime, va fuori anche il Milan. E poi Castel di Sangro, gravina celebrato nel paese del miracolo, paese che portò alla cadetteria a metà degli anni 90. Sempre il centro ma, edizione di Teramo. Ovviamente come vedete la parte alta non cambia, cambia invece l'apertura. Più soldi ai part-time del comune, Teramo aumentano, ora e compensi per 44 dipendenti di vari settori. E poi festa all'ospedale Mazzini con il Vescovo, oculistica, hanno da record quasi 23 mila le prestazioni. Nelle cronache post-sisma a Teramo consigli, dubbi sulla presenza del direttore USR, Val Vibrata, pista ciclabile, versioni diverse sugli espropri. A Roseto invece decisi i cambi della viabilità, che erano bloccati da mesi in basso. Per lo sport non c'è il Pescara ma ovviamente c'è il Teramo che punta su Conson, l'ex capitano della Samba potrebbe rinforzare la difesa. Vedremo se sarà effettivamente così. L'edizione di Chieti, Lanciano Vasto, cambia l'apertura. Maxi frode al fisco, questa è un'altra notizia che vi abbiamo raccontato ieri nel corso dei nostri telegiornali. Smantellata un'organizzazione che truccava le cartelle 40 indagati. Questa è la foto della conferenza stampa di procura, guardia di finanza e polizia tenuta proprio ieri mattina. Nelle cronache a Vasto rapinò la moglie di Castaldi ed è stato condannato. A San Martino, regione, la BOL ceda gratis lo stabilimento. A Lanciano invece concerti natalizi. Il Comune trova i fondi in basso, lo stadio Angelini nel caos, stadio al buio, il Chieti punito. Il Comune non accende le luci, la squadra donne perde d'ufficio. Leggiamo allora, questa è una notizia particolare, manca il tecnico del Comune autorizzato ad accendere le luci. Lo stadio Angelini resta al buio e l'arbitro sospende la partita. Il chiede di calcio femminile perde a tavolino la gara di Coppa Italia e punta il dito contro l'amministrazione. Chiediamo rispetto. Siamo abbandonati. Questa è una notizia purtroppo particolare, ma non positiva, bisogna dire. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella aquilana. Elezioni biondi rimane in sella. L'Aquila ha respinto il ricorso dal Consiglio di Stato, il ricorso del centro-sinistra sul riconteggio delle schede delle elezioni. Proprio che videro Pierluigi Biondi salire sullo scherano più alto del Consiglio Comunale del capoluogo abruzzese. Sempre all'Aquila, mattinata di disagi, spolverata di neve, manda in tilt il traffico verso le scuole. Come vediamo nella foto ci sono delle persone che cercano di spingere un'automobile che evidentemente ha delle difficoltà a partire. Neve in strada, scuole aperte, traffico in delirio, una macchina in panna come vediamo nella foto, ritardi a scuola, classi semideserte. Insomma, la prima neve all'Aquila ha creato qualche piccolo disagio, mettiamola così. Sempre all'Aquila, piscina chiusa, siamo nelle cronache, in campo CGL e associazione. Ad Avezzano, morto dopo cinque interventi, la ASL allora dovrà risarcirne il figlio. E poi inaugurata a Sulmona la stazione che è stata rimessa a nuovo. Per il calcio in basso, questo grande colpo dell'Aquila che gioca il campionato di prima categoria, ma si regala Damiano Zanon, l'ex terzionale di Pescara e Perugia, scende in prima categoria. La firma è prevista oggi, l'accordo è fatto, classica scelta di vita per l'ex Pescara e Perugia, che nel capoluogo è nato, risiede e peraltro sta anche per aprire un'attività proprio all'Aquila. E dunque davvero un grandissimo colpo per i rosso-blu. Aquilani, cambiamo quotidiano, ma vedete che anche sul messaggero l'apertura è dedicata all'Aquila. E a Biondi che resta sindaco, il Consiglio di Stato boccia il ricorso del centro-sinistra. Non ci sarà Anatra Zoppa, il primo cittadino. È stata un'azione pretestosa, la maggioranza è pienamente legittimata. In alto, sotto la testata, leggiamo rapidamente. Teramo, uso eccessivo di smartphone. I medici lanciano l'allarme, allanciano lettere d'amore dal carcere. Il vincitore è un giornalista. E poi per il calcio, Pescara, senti Gravillon, sfido. Cristiano Ronaldo, il difensore, il perno fisso della retroguardia di Pilon, ma è dell'Inter. Mercato, Sebastiani, guarda rinforzarsi in attacco, ma senza esagerare. Di spalla per il caso, Autostrade, Toninelli e Gruppo Toto vanno allo scontro. Poi scendiamo, cercando di leggere un po' tutto per le regionali. Questo bozzi, il centro-destra, impanne su Marco Marsiglio, impantanato nel guado della scelta del candidato presidente, per un mix di ragioni. In primis, lo scetticismo sul senatore di Fratelli d'Italia, come detto Marco Marsiglio. Evasione fiscale, come torna anche qui il caso di Chieti. 63 milioni, maxi blitz, arresti e sequestri. Chieti, le intercettazioni. Lottare contro lo Stato rende bene una delle intercettazioni tra i coinvolti in questa inchiesta. Montesilvano, un chilo di coca nell'abitazione di Insospettabili. E poi, festa Rebus a Piazza Salotto, in vista del Capodanno. Non si sa ancora se il Capodanno a Pescara verrà festeggiato in Piazza Salotto, spazi ristretti per il trenino. Troviamo la notizia. Sgomberate le case occupate a Fontanelle, lotta agli abusivi dopo gli sgomberi di ottobre. Ieri è toccato agli alloggi popolari di via caduti per servizio. E poi, sul Gran Sasso, come vediamo, amici salvati nella bufera. Le previsioni di meteo sono state chiare. Sconsigliavano di compiere un'escursione in montagna, figuriamoci, a 2600 metri. Ed invece due ventenni, uno di Roma all'alto delle Marche, studenti universitari e amici, volevano fare questa escursione. Hanno perso l'orientamento e sono stati salvati nel pieno di una bufera. Per fortuna, verrebbe da dire. Andiamo alla prima pagina della città quotidiana della provincia di Teramo, che sceglie di aprire proprio con i trasporti. Caro Pedaggi, Toninelli ne fa un'altra per il ministro. I sindaci abruzzesi fanno il gioco di toto. Strada dei Parchi lo inchioda sul PEF. In alto, nei box, siamo a Teramo. Il Comune prensa al pronto intervento. Mai più semafori spenti che sono pericolosi. Val Vibrata, nessuno stoppa ai lavori della ciclopedonale. Giulia Nova si lamenta. Presepe vivente, evento clou del Natale. Scendiamo in questa grande foto. Altro che cementificazione, l'IZS Caporale, istituto zooprofilattico, risponde alle critiche sul progetto di Campo della Fiera. Nei box di spalla, cosa troviamo? Asperger a Teramo, sentenza storica sul diritto di assistenza. Sant'atto arrestato con 110 grammi di cocaina. E poi il Teramo per lo sport. Ritrova Olcese domani sera. Insomma, uno che non ha lasciato un grande ricordo. è Sogna Costantino, uno che invece a Pesaro come Olcese si è affermato prima di passare al Sud Tirol. Trasferta di domani, riapre il discorso sulla cronica necessità di attaccanti. A Teramo, sempre, buon Natale ai dipendenti del Comune. Aumenti in arrivo dopo addirittura 20 anni. E domani sera, spazio 3, festeggia 50 anni di teatro con un galà al Comunale. Queste le prime pagine regionali. Andiamo su quelle nazionali, partendo dal Corriere della Sera. La prima, quella di centropagina, dedicata all'ultimo duello sulla manovra. Tria si ferma a Bruxelles per trattare il ministro dell'economia. Salvini e Di Maio dicono, noi con Conte. Moscovi sì, passi avanti, ma non basta. Toninelli dal via libera al terzo valico, dopo la definizione dell'analisi costi-benefici. In alto, invece, si torna sui fatti di Strasburgo. Il terrorista islamico ucciso dalla polizia, applausi in strada, ha sparato sugli agenti, ucciso il killer dell'attentato a Strasburgo di 29 anni, morto dopo uno scontro a fuoco con la polizia francese. L'uomo era in fuga da 48 ore. E di spalle, invece, leggiamo l'analisi di Dario De Vico sull'economia, il partito del sì in felpa blu. Cambiamo quotidiano, andiamo su Repubblica, pensioni, reddito e tasse, manovra da rifare, lite sui tagli. L'Unione Europea chiede di più, trattativa oltranza, Lega e Movimento 5 Stelle, base in rivolta, dicono, vi siete rimangiati tutto. L'analisi di Claudio Tito, la stagione dei due governi e poi il commento di Piero Ignazzi, l'ossessione di Renzi. La scelta di D, quella cicatrice, l'inserto di Repubblica è D, quella cicatrice dell'insegnante, è lei la nostra donna dell'anno, Franca Di Blasio. Ma, oggi riaprono i mercatini a Strasburgo, trovato ucciso dalla polizia l'attentatore, che purtroppo l'altro martedì sera ha compiuto una strage. La sentenza, l'Odi, sconfitta la sindaca, tutti i bambini stranieri hanno diritto alla mensa. Il caso, l'ONU bocce il bollino rosso per parmigiano e prosciutto, non fanno male al salute. Questa è una buona notizia. La stampa, Italia, Unione Europea, ora si tratta a oltranza. Bruxelles chiede altri 4 miliardi, Tria, dice l'accordo, è possibile, centinaio della Lega. Un errore, irrigidirci sul negoziato, pesa l'allarme del presidente della BCE Draghi, la crescita è più debole del previsto. L'analisi è di Carlo Cottarelli, un percorso disseminato di incognite. Anche qui torna la vicenda dell'uccisione, un blitz del killer di Strasburgo. L'Isis rivendica l'attentato di martedì a Strasburgo, dicendo, era un nostro soldato. In Europa fallisce il blitz anti Torino-Lione del Movimento 5 Stelle, grillo deluso da tappe condoni sull'ambiente e gelo con Di Maio. Il Messaggero, edizione nazionale, ovviamente la prima pagina nazionale, manovra le ultime richieste dell'Unione Europea. La Merkel apre, si va verso il Via Libera di Bruxelles, ma si tratta ancora sul deficit strutturale, caccia le dismissioni, ipotesi aumento IVA nel 2020, tensione tra i due vicepremier, Salvini e Di Maio, su quelli che dovranno essere i sacrifici. E poi tornano i barbari Roma in ostaggio, perché traffico impazzito, locali saccheggiati dagli ultras dell'Eintracht di Francoforte, che ieri giocava il match di Europa League contro la Lazio all'Olimpico. Ci sono stati degli scontri con le forze lordi, il lancio di fumogeni, ancora una volta oltraggiata la capitale, anche durante la partita, i tifosi dell'Eintracht particolarmente irruenti, e anche all'interno dello stadio olimpico. Strasburgo, il killer ucciso dalla polizia, sparava sugli agenti, come vediamo anche qui. Il Fatto Quotidiano, il forum con Di Maio, che spiega il reddito e dico a Salvini, puntini, puntini, evidentemente poi si troverà all'interno quello che Di Maio dice all'altro vicepremier. Moscovi sì, non è Juncker, se la Lega torna con Berlusconi si suicida. Unione Europea ci sarà un nuovo gruppo che accoglierà il Movimento 5 Stelle. Evidentemente dopo le elezioni europee di giugno, terrore a Strasburgo, dopo il caos e i falsi allarmi, ucciso il killer. Lodi, comune stangato, menza negata ai bimbi stranieri e razzismo. L'hanno rimasto solo, Renzi mollato dai suoi, in massa con Martina. E poi le questioni sulla manovra di bilancio, tra Italia e UE accordo politico, ma la commissione non basta. E poi l'annuncio di Toninelli, il terzo valico è un inutile spreco, ma la grande opera si farà lo stesso. Queste le parole del Ministro dei Trasporti. Il tempo, l'ecotassa fa già inchiodare l'auto, sono bastate le voci sulla nuova imposta ecologica per far bloccare il mercato italiano. Le case si lamentano, nel dubbio i clienti non comprano e così sono a rischio anche i posti di lavoro. In alto, cara Raggi, i tuoi rifiuti non li prendiamo, vendetta dei governatori di Toscana, Emilia e Lombardia. Il Movimento 5 Stelle ci insulta sempre, adesso se la cavino da soli. E poi ecco qua quello che è successo ieri a Roma, vandali e zozzoni, ecco i tifosi tedeschi. E poi c'è ovviamente una frase ironica che si pensa possa essere stata detta dai tifosi dell'Eintracht, così ve imparate a sforare deficit, rivolto ovviamente agli italiani. in basso una bella notizia che è quella della quadarella d'argento ai mondiali di nuoto, seconda negli 800 stile libero. E poi fidanzata di Casamonica rioccupa la casa confiscata, forzata la serratura della villetta. Libero, la Germania ci sfotte, in Italia governo di pasticcioni, la nostra finanziaria è ancora tutta da scrivere, l'accordo con l'Europa non è chiuso, le cifre sul reddito di cittadinanza sono un mistero. E Berlino se la ride, volenterosi dilettanti, ci consoliamo con il vino, è l'unico prodotto il cui consumo è aumentato. L'editoriale di Vittorio Feltri, abolite, dice, il contratto e libererete il paese dal debito pubblico. Il titolo è datevi una mossa. A centropagina, raggi della morte, annienta il metro, strazioni bloccate di colpo. Il sole 24 ore, Draghi, finita l'era degli acquisti, BCE, crescita più debole, la Banca Centrale Europea continuerà a comprare titoli a lunga scadenza, tassi invariati, almeno fino alla prossima estate, il PIL dell'Eurozona all'1,9%, dopo una previsione che era del 2%, leggermente corretta al ribasso le previsioni. E poi, manovra intesa più vicina con la UE, Tria, la trattativa va avanti a oltranza. E poi, calcio e finanza nel Milan di Elliot, cordata dei soci VIP. Altra notizia, le mire cinesi sui porti italiani, Trieste e Venezia, in cima alla lista. queste le prime pagine dei quotidiani generalisti, vediamo i quotidiani sportivi, perché ieri è stato un giovedì di Coppa, Europa League, ovviamente, questa è la gazzetta dello sport, che apre con l'inferno Milan, spreca, illude e crolla, addio Europa League. Tre giorni di Coppa da dimenticare, passa l'Olimpiacos, che al Pireo vince 3 a 1, Leonardo accusa l'arbitro, corner irregolare sul primo gol, il rigore inesistente, un rumore assordante per farci sbagliare, Gattuso invece, duro, con la squadra abbiamo regalato la partita quando butti 8 palle e golle, poi è giusto che tu vada a casa. Il commento di Andrea Schianchi, che vediamo in basso, che brutto risveglio. Invece, sempre per l'Europa League, la Lazio, per la Lazio una sconfitta in dolore, assalti degli ultra tedeschi, l'Eintracht passa 2 a 1 all'Olimpico dopo l'iniziale vantaggio di Correa. Dall'altra parte altri box, Allegri specialista del turnover Juve ed evita Sperperi, allenatore maestro del risparmio energie, Bernardeschi, che lezione subita con lo Young Boys? Non sbaglieremo più i cuori toro, così facevamo soffrire la vecchia signora perché si avvicina il momento del derby, proprio di Torino, sabato sera, domani sera. In alto, Marotta nel mondo Inter, ora inizia un percorso vincente, contratto fino al 2022, con Zhang presto al top, Spalletti, lavori, sereno, le parole del nuovo amministratore delegato nero-azzurro, in basso lo sci Nadia, Doro, Simona, tre azzurre sul podio, Ochner, Wierer e Wierer prima, Quadarella seconda, e poi Little Jet all'attacco della Saslong, oggi il Super G, Coppa del Mondo, Paris e Inerofer, devono sfidare Foitz e Company alle 12, domani, tocca ai discesisti, e poi questo è l'interno di Gazzetta dello Sport, vediamo invece la prima pagina del Corriere dello Sport, l'apertura in alto è dedicata al Patatrack Milan, Gattuso battuto 3-1 ad Atene, dall'addio all'Europa, Leonardo Furioso inventato un rigore, la Lazio già promossa, cade 1-2 con L'Eintracht Francoforte e c'è lo specchietto delle qualificate ai sedicesimi di Europa League, le nostre tre italiane sono Napoli e Inter che sono retroscesse dalla Champions League e saranno teste di serie dai sedicesimi in poi e la Lazio che si è qualificata ma non sarà testa di serie ma comunque almeno nella prossima fase non potrà incontrare né Napoli né Inter non ci saranno non sono previsti derby e poi a centro pagina tripletta perché tripletta Marotta disegna un Inter da sogno perché vediamo Modric il grande colpo Cross l'alternativa poi Barella o Chiesa con Conte in panchina il nuovo amministratore delegato si presenta con idee chiarissime e voglia di riportare in alto questo club scendiamo in basso il Foggia sceglie Padalino a questo punto verrebbe da dire risceglie Padalino perché Padalino ha allenato il Foggia in Lega Pro qualche stagione fa stasera c'è la Cremonese Caschi d'Oro super festa con Leclerc e arriva bene Leclerc che l'anno prossimo affiancherà Vettel sulla Ferrari in basso Quadarella Argento Vivo è meglio di una favola ci fermiamo adesso per le previsioni del tempo la pubblicità poi torniamo insieme per sfogliare i giornali di casa nostra seconda parte di mattino 6 siamo pronti per andare a leggere i quotidiani di casa nostra che ovviamente nella prima parte scelgo di aprire con la politica soprattutto perché insomma mancano due mesi alle elezioni regionali ma soprattutto come vediamo nel quotidiano il centro in apertura Di Maio ecco le priorità per l'Abruzzo intervista esclusiva al vice premier dei 5 Stelle oggi e domani sarà Pescara Pineto a Tessa torna Recce e Lanciano con la candidata proprio del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi che affonda il colpo come leggiamo nuovi ospedali occupazione le debacle dall'altra parte invece un centro-destra in difficoltà evidentemente perché tutto torna in alto mare salta il tavolo romano Bella Chioma non c'è stato e per ora non so quando ci sarà mentre Marsiglio e Fratelli d'Italia vanno avanti questi sono gli sviluppi intanto in basso come vediamo inaugurata a Pescara la sede della DC di Giuseppe Antonio l'ultimatum l'UDC minaccia di andare via ma sono questioni quelle della politica regionale degli equilibri che ritroviamo anche sul messaggero come vediamo centro-destra in panne su Marsiglio candidato una nuova fumata nera nel giorno che sembrava decisivo per la scelta Fratelli d'Italia lancia ugualmente la campagna elettorale a Francavilla questo è per l'Abruzzo alle urne Di Maio oggi sarà invece a Pescara per sostenere Sara Marcozzi e per lo spettacolo di Beppe Grillo come leggiamo in questo mini box cominciamo la lettura con la pagina di Pescara via gli abusivi dalle case popolari forse l'ordine in massa Fontanelle per sgomberare quattro famiglie che occupavano senza titolo alloggi e ladder dopo Via Rigopiano e passo della portella prosegue la lineatura della questura e comitato per l'ordine pubblico agli appartamenti come leggiamo in alto subito murati dagli operai del comune per prevenire nuove intrusioni sul tappettinari torna la legalità e allora andiamo a vedere il servizio curato per noi da Paolo Lorenzetti Ennesima operazione interforze nelle quartiere Fontanelle di Pescara contro gli abusivi sono stati sfrattati alcuni abusivi questa mattina in via caduti per servizio carabinieri polizia di stato uomini militari della guardia di finanza l'ennesima operazione e pettinari sollecitata dal Movimento 5 Stelle Sì, solo alcuni giorni fa ho fatto l'ennesima denuncia pubblica dicendo che ci sono criminali pluripregiudicati che occupano abusivamente le case popolari e addirittura pagano alcuni pagano 15 euro d'affitto ne guadagnano 500 euro al giorno con lo spaccio di droga in più avevamo denunciato il racket del subaffitto cioè occupano abusivamente 10 case una le trattengono per loro e altre 9 le subaffittano illegalmente questo è veramente uno scandalo avevamo insistito con lo sfratto lo sgombero di questi delinquenti criminali c'è stata una prima risposta da parte delle forze dell'ordine io ringrazio infinitamente per il lavoro che svolgono ogni giorno ma c'è da fare molto di più in altri quartieri che sono rimasti assenti possiamo dire da parte delle istituzioni avevate chiesto in passato e tornate a chiedere anche un presidio delle forze dell'ordine sì chiediamo un presidio fisso H24 di polizia nei quattro quartieri più caldi Ferro di Cavallo Rancitelli Via Rigopiano e San Donato perché queste sono delle bombe sociali pronti ad esplodere che significa che sono pronti ad esplodere a fare spaccati in centro furti in centro spaccio di droga in centro quindi non è solo un problema delle periferie questo problema ogni giorno si sposta e va a delinquere nei centri urbani nei centri nevralgici della nostra città e allora ritorniamo a leggere le pagine sempre di Pescara sul messaggero via il trenino per salvare il concertone il comune pronto a tutto per confermare la festa di Capodanno in piazza Salotto e poi l'esercitazione di sicurezza in aeroporto cambiamo pagina dall'altra parte prostitute nel centro massaggi cinesi l'ex titolare condannata a due anni rischia l'incriminazione una testimone e poi la testimonianza shock così nelù abusò di Anna e poi la lasciò agonizzante nel tunnel il racconto in chioda il romeno accusato della morte della Carlini la sorella ma lui è ancora libero in basso caso grosso la ragazza scomparsa in arrivo la morte presunta l'udienza ci sarà decisiva lunedì la famiglia intanto si oppone all'archiviazione del detective accusato di frode processuale torniamo sul centro questa è la pagina di Pescara anche qui ci avviciniamo ovviamente al Natale e dunque l'attenzione è rivolta agli spettacoli weekend di spettacoli traffico però limitato in città domenica stop le macchine inviali d'annunzio c'è lo show di Marco Papa corso vittorio in comprensione con il comune i negozianti annullano gli eventi ritroviamo il blizza Fontanelle a pagina 18 tolti gli abusive e murate le case popolari ma l'atter non può assegnare gli appartamenti liberati Ninari si appella alla procura Pettinari è un giorno luminoso come avete visto sono state murate proprio le case in basso cade l'acqua dal tetto inquilino risarcito battaglia legale con il comune cambiamo pagina donna uccisa la stazione parla il test chiave anche qui ritroviamo la notizia ho visto Anna tra le mani di quell'uomo un cittadino della guinea anch'io del romeno accusato di aver stuprato e lasciato morire la 33enne il dolore dei familiari di Anna Carlini sfruttamento della prostituzione centro massaggi ex titolare condannata a pagina 21 appalto scogliere il PM Nicolai e altri 6 a processo presunta truffa ai danni dello Stato per l'accusa l'appaltatore documentava la fornitura di quantitativi di materiale superiori rispetto a quelli utilizzati cambiamo pagina aeroporto uno sportello per promuovere la città sarà gestito dall'ente manifestazioni e poi dall'altra parte le donne soroptimist opere d'arte per il turismo il cinquantenario del club femminile siamo a Montesilvano blizzi in via Rimini cocaina in casa fidanzati agli arresti i calabinieri trovano il sequestro nella loro abitazione un chilo di droga la ragazza incinta però resta ai domiciliari dall'altra parte liceo da scagno e ponte gli impegni di Zaffiri il neopresidente della provincia visita le strutture insieme al sindaco subito il nuovo ingresso della scuola gru in arrivo per riprendere i lavori sul saline chiesa di San Panfilo oggi a spoltore si presenta il libro in basso e torniamo sulla pagina di Montesilvano perché a città Sant'Angelo fuga dei controlli aveva la droga negli slip i baschi verdi della finanza inseguono e poi bloccano un trentenne in moto liceo volta al gelo siamo a Francavilla dopo lo sciopero arrivano i tecnici ieri mattina la protesta di 309 studenti con le coperte dopo due mesi la provincia risolve il problema in un giorno evidentemente bastava magari alzare la voce per farsi sentire dall'altra parte l'ospedale di Penne la ASL nomina tre nuovi primari Ciarelli Palmieri e Vizioli andranno a ricoprire gli incarichi delle unità semplici di ortopedia chirurgia e ginecologia e poi il processo sui lavori a torre ricostruzione post terremoto gli imputati vanno verso la prescrizione a Chieti avete la doppia pagina spariti 63 milioni di tasse 12 arresti 40 indagati maxi frode fiscale l'operazione smantellata la banda che truccava le cartelle sotto accuso un noto imprenditore di Pescara gli arrestati sono qui ricostruiti nel dettaglio nello specchietto tutti gli altri indagati dall'altra parte ovviamente l'accusa che poi ritroveremo anche nel servizio e vi stiamo per mostrare tra poco associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale sequestrati beni per 63 milioni di euro ecco chi è il teatino di Biase l'impresario funebre con il conto in Francia per l'accusa cercava clienti ma voleva fare il salto per guadagnare di più dall'altra parte nelle intercettazioni lottiamo contro lo Stato sono 1200 euro al giorno gli indagati al telefono fanno i calcoli dei guadagni un lavoro che rende bene e uno dei consulenti minaccia pago uno zingaro così mi riprendo 400 mila euro insomma tante notizie noi per fare il punto della situazione ci vediamo il servizio di Alfredo Primante 12 ordinanze di custodia cautelare 14 obblighi di dimora 28 misure interdittive 40 indagati in totale e beni mobili ed immobili sequestrati per 63 milioni di euro e il bilancio dell'operazione Dark Shadow condotta dal comando provinciale della guardia di finanza di Chieti con la polizia e coordinata dalla procura teatina scoperta e sgominata una vera e propria organizzazione criminale con base in Abruzzo in Campania che secondo gli inquirenti falsificava F24 per il pagamento dei tributi fiscali in maniera da far azzerare il debito con l'erario i clienti che si rivolgevano ai professionisti indagati per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale provenivano da tutta Italia mi ripeto i clienti venivano dalla Lombardia dall'Emilia Romagna ovviamente dall'Abruzzo dalla Molise dalla Puglia e anche dalla campagna stessa un giro enorme è portato alla luce dalle indagini di fiamme gialle e polizia durate circa un anno in debite compensazioni di imposte utilizzando crediti inesistenti oppure già utilizzati in precedenza questo è il meccanismo che si attuava attraverso il pagamento online di F24 con saldo debitore di 0,01 centesimi per far risultare ad agenzia delle entrate e l'avvenuto pagamento a capo dell'organizzazione le tre persone finite in carcere il teatino Maurizio Di Biase 51 anni titolare di un'agenzia di pompe funebri e due consulenti fiscali napoletani Michelangelo Maffei e Renato De Luca Di Biase era il principale referente dell'area chietina e pescarese nonché procacciatore di clienti a Chietiscalo poi c'era la base operativa mentre i modelli F24 falsi venivano lavorati in campagna Per quanto riguarda ovviamente i personaggi locali indagati sul territorio teatino è appunto un personaggio a noi conosciuto peraltro perché sono state fatte negli anni altre indagini su questo su questo personaggio Ai domiciliari in esecuzione di ordinanze emesse dal GIP del Tribunale di Chieti Luca Deninis su richiesta del sostituto Ciani sono finiti Mattia Di Biase figlio di Maurizio Lorenzo D'Arcangelo Romeo Melaragna Matteo Veneziani Eurazio D'Ambrosio oltre ai campani Gennaro Maffei Gelsomina Maffei Vincenzo Campoluongo e Luciano De Rosa questi ultimi già indagati in una max inchiesta in campagna sui furbetti dell'F24 assieme ai commercialisti De Luca e Maffei Torniamo sui giornali proprio su questa notizia perché leggiamo le parole del procuratore Testa un danno all'economia dell'Abruzzo l'analisi il risultato raggiunto grazie a una squadra che lotta contro l'evasione ovviamente la notizia che ritroviamo sulla pagina di Chieti del messaggero con il trucco per non pagare le tasse evasi 63 milioni 12 arrestati in manette Maurizio Di Biase 51 anni titolare di un'agenzia di pompe funebri versava un centesimo con l'on banking utilizzando crediti inesistenti negli F24 la telefonata a lottare contro lo Stato rende bene tanto da guadagnare più di 1200 euro al giorno questo almeno si dicevano per telefono attraverso le intercettazioni con cui è stata scoperta questa rete andiamo avanti andiamo a Teramo consiglio sul sisma in dubbio la presenza del direttore dell'USR Marcello Alberto non ha risposto all'invito del comune ci sarà Lolli per rispondere alle richieste sull'emergenza 5 stelle in polemica sul divieto di parola ai parlamentari assurdo non ascoltare Berardini e Zennaro Melarangelo la seduta la seduta non sarà una passerella intanto sono partiti i lavori per riaprire la chiesa madre di Colledara era chiusa per inagibilità dal 2016 in basso a proposito di comune più ore e soldi a 44 lavoratori part time il comune assegna l'aumento a bidelle operatori del verde impiegati per migliorare i servizi intanto il Mazzini che cambia per la sanità oculistica sfiorate le 23.000 prestazioni per Santa Lucia ovviamente ieri il vescovo visita e dice messa nel reparto da poco dotato di un angio OCT e di un potente microscopio a centropagina Mattucci da gennaio in pensione ma resta direttrice sanitaria alla ASL e per la dialisi il vescovo Leuzzi benedice il presepe andiamo dall'altra parte Torre di Cerrano cominciati i lavori per rifare l'accesso a sud verranno realizzate le opere anti smottamento a nord un nuovo ponticello la spesa 50.000 euro tanto la Lega di Silvi dice chiediamo i rinforzi per bloccare i furti a Pineto via Colombo asfalto rifatto male tre consiglieri dell'opposizione accusano si sta subito sfaldando all'Aquila la sentenza d'appello elezioni respinto il ricorso niente ribaltone in consiglio la Suprema Corte Amministrativa non ha accolto la tesi del centro-sinistra sul conteggio delle schede il sindaco Biondi resta in sella dice avevo grande fiducia perché sapevo che era un'azione pretestuosa e in basso i fuori usciti da Forza Italia fiducia all'IRIS ma sull'argomento a una trazoppa scampata di fatto al comune dell'Aquila vediamo insieme il servizio il consiglio di stato ha bocciato oggi in via definitiva il ricorso elettorale del centro-sinistra nel consiglio comunale dell'Aquila sull'esito delle elezioni del giugno del 2017 confermando la decisione del luglio scorso del Tar che aveva dichiarato inammissibile il quesito la maggioranza del sindaco Biondi dunque è salva finisce così l'era dell'anatra zoppa se giudici amministrativi avessero accorto l'istanza dei ricorrenti il sindaco Pierluigi Biondi di Fratelli d'Italia alla guida della città da un anno e mezzo si sarebbe ritrovato senza i numeri per amministrare i giudici amministrativi come si ricorderà si erano già riuniti a Roma il 6 dicembre ma le parti avevano deciso di non discutere il ricorso è stato curato dagli avvocati Claudio Verini Maurizio Capri e Alfonso Celotto mentre a difendere il centro-destra sono stati gli avvocati Raffaele Daniele consigliere comunale dell'Udc e Roberto Colagrande i ricorrenti avevano chiesto e ottenuto il riconteggio delle schede di alcune sezioni elettorali con l'obiettivo di far recuperare alla coalizione di centro-sinistra sconfitta 41 voti che sarebbero mancati per raggiungere al primo turno il 50% più 1 il ricorso del centro-sinistra era stato sottoscritto oltre che dal candidato sindaco sconfitto al ballottaggio Americo di Benedetto anche dallo stesso Maurizio Capri da Emanuela di Giovambattista da Fabrizio D'Alessandro Stefano Palumbo e Stefano Albano del PD Sergio Ianni di Abruzzo Civico Gianni Padovani dei Socialisti Fabrizio Ciccarelli Antonio Nardantonio e Paolo Romano del Passo Possibile Massimo Scimia di Cambiare Insieme se il centro-sinistra l'avesse spuntata a rientrare in consiglio comunale sarebbero stati Capri di Giovambattista ed Alessandro del PD Gli Anni di Abruzzo Civico Padovani dei Socialisti Ciccarelli del Passo Possibile ma anche Giorgio Spacca di Articolo 1 Anna Lucia Bonanni di Coalizione Sociale e Fabrizio Righetti dei 5 Stelle E' una notizia questa importante che ritroviamo anche sul messaggero Anna Trazoppa non per pochi voti il Consiglio di Stato salva biondi chiusa la carrella giudiziaria e politica con la sentenza definitiva pubblicata ieri non c'entra il caso dei voti del seggio 41 il riconteggio ha bocciato il centro-sinistra in basso sempre all'Aquila come vediamo la spaccatura nasce insieme l'Aquila appoggio a Guido Liris dall'altra parte sempre all'Aquila la Cina punta ancora sul capoluogo delegazione di Zibo 5 milioni di abitanti visita incoraggeremo le nostre aziende a investire in questo luogo Biondi e Lolle hanno accolto un nutrito gruppo del sollevante l'Aquila offre tante opportunità apriremo delle collaborazioni cardiologia intanto convegno per festeggiare i 30 anni a Sulmona una stazione moderna innovativa il taglio del nastro ieri alla presenza dell'amministratore delegato di RFI il sulmonese Maurizio Gentile e del sindaco lo sforzo non è stato solo economico 7 milioni di euro ma anche di gusto e stile cercando di non tradire la storia della stazione di Sulmona ed eccola qua ritroviamo anche questa l'operazione maquillage come viene definita inaugurata la nuova stazione ferroviaria RFI investito 7 milioni l'amministratore delegato Gentile stiamo dotando gli scalpi più importanti di sistemi innovativi e sempre a Sulmona la D di RFI la città si legge non sarà penalizzata affatto dalla bretella e questa è l'inaugurazione con il taglio del nastro c'era anche il primo cittadino Anna Maria Casini di Sulmona e vediamo dalle foto davvero molto molto bella almeno statisticamente parlando entro la primavera verrà realizzato anche un servizio di informazione visiva e sonora per i viaggiatori adesso come vediamo la sezione è dotata di ascensori sempre a Sulmona punto nascita 6 parti in 24 ore 4 fiocchi rosa e 2 blu per ridare speranza al reparto a rischio chiusura ad Avezzano invece il presidente di Pangrazio Tribunale da salvare presto ci sarà l'incontro con il ministro qui siamo già allo sport ci arriveremo ovviamente tra poco siamo a Teramo allarme smartphone e pc causano danni agli occhi inaugurato il nuovo reparto di oculistica sempre più problemi che arrivano dalle tecnologie in un anno in un anno 2010 interventi in catalatta sono molti più di quelli dell'anno precedente il primario troiano con competenza e strumenti di qualità abbiamo fermato la mobilità passiva verso le marche e poi il blitz antidroga nella palla di Natale la cocaina per le feste blitz antidroga della polizia in basso ladri lungo il corso rubato un abete argentato andiamo adesso a Giulianova perché i ladri tornano al duomo della sacrestia dalla sacrestia riescono a forzare la porta esterna che si affaccia sul corso ma non quella che immette nel luogo di culto al santuario della madonna dello splendore e sistemato un coperchio sul pozzo per evitare malintenzionati siamo ad alba triatica ricorso al tar dei proprietari delle aree a martin sicuro invece strage di tigli secolari a villa rosa questo in val vibrata e poi a Giulianova calendario di natale tra classici e novità rimaniamo in provincia di terra facendo un salto sul quotidiano la città per vedere il progetto IZS per campo della fiera il presidente Manola Di Pasquale replica alla polemica tutta interna alla maggioranza d'Alberto la transazione il progetto è frutto della transazione tra comune IZS per l'ex mattatoio e le aree di campo buario a vantaggio dell'IZS questo è il progetto che prevede un parcheggio interrato un giardino un asilo nido una nuova struttura per i servizi dell'istituto passiamo allo sport adesso perché lunedì ci sarà questa partita particolare oltre che molto bella decisiva tra due squadre forti come Verona e Pescara sarà un vero e proprio big match lunedì sera ma soprattutto sarà la partita di grosso che sfida il Pescara è la partita del cuore il 49enne prepara la gara contro la sua città ma Pilon vuole il colpaccio vediamo un'ovità in casa Pescara Antonucci prenota una maglia da titolare l'esterno offensivo ha rientro dopo l'infortunio in Sidia Monachello torna invece Maccin dal primo minuto ovviamente nel ruolo di interno di centrocampo dall'altra parte la missione di D'Amico di S degli Scaligeri riportare in Serie A il Verona abitava in Pian delle Mele da bambino andava in Curva Nord cresciuto nella Curie e nel Delfino ha giocato con Grosso nel Chieti poi una lunga carriera in vari club di C il direttore sportivo del Verona intanto nel club veneto a proposito di ex a capo delle giovanili c'è lo ricorderete Massimo Margiotta intanto c'è stato il cambio di panchina a Foggia Padalino il nuovo tecnico prende il posto dell'esonerato Gianluca Grassadonia vediamo sul messaggero le questioni che riguardano il Pescara Graviglion eroico sfiderei anche CR7 il difensore del Pescara è una splendida realtà nonostante non abbia ancora 21 anni ed è l'Inter che effettuerà la recompra questo gruppo dice vuole giocarsela con tutte caccia all'attaccante ci proiettiamo un po' anche al mercato ma possibilmente low cost vedremo se poi l'attaccante arriverà facciamo un salto nel Veneto per vedere come sul Corriere di Verona vivono la sfida è la Pescara motori allo specchio nel posticipo c'è bisogno del turbo giallo-blu ancora in rodaggio gli abruzzesi volano con Leonardo Mancuso autore di 8 gol rientra il tifo veronese ma continua la protesta la curva sud ha fatto sapere che lunedì il Bendegodi non sarà deserto abbiamo deciso di tornare sugli spalti e di continuare la contestazione da dentro lo stadio nessuna tregua per chi non perde occasione di mancare di rispetto a ogni tifoso del Verona questa è come la si vive in casa veronese la partita cambiamo pagina adesso scendiamo di categoria Teramo difesa da blindare spunta la pista con Son l'ex Samba è stato con Maurizzi a Via Reggio e potrebbe lasciare la regina in basso l'Aquila piazza il colpo preso Zanon l'ex terzino di Pescara Perugia e Frosenone scende in prima categoria dall'altra parte Castel di Sangro celebra il Gravinadei portò i giallorossi in serie B ora a capo della FIGC oggi pomeriggio la consegna della cittadinanza onoraria peraltro lo vediamo qui Gravina attuale presidente della FIGC con il timoniere di quella squadra Osvaldo Iaconi l'ascesa di un club abruzzese d'adozione si legge il presidente federale riceverà il riconoscimento alle 18 presenti tanti protagonisti del miracolo sportivo in platea anche il CT azzurro Mancini l'ex capitano della nazionale Fabio Cannavaro chiudiamo con il centro con l'ultima pagina Roseto siamo al basket all'arma infortuni Dark Angeli Neguai Biancazzurri senza Pieric e Busciati per la sfida contro Treviso l'allenatore degli Sharks anche Pene e Nicolic sono in dubbio palacanestro di serie B amatori senza freni final eight nel mirino Raiola dice ci proviamo cambiamo un quotidiano ritroviamo le questioni di basket sul messaggero con le parole di Norante che dice Roseto salvezza da playoff il protagonista degli Sharks si divide con Roma per trovare risposte alle problematiche che non mancano cambiamo pagina e allora scendiamo in serie C dalla serie B che riguardava la prima pagina Teramo più fisicità appello per il mercato la richiesta di Maurizio si potrebbe lasciare il centrocampista Ranieri per l'attacco Costantino Pinetese sul Tirollo oppure Bianchimano e Leonetti ma c'è un ampio spazio anche per la serie D che noi seguiamo molto da vicino con queste notizie Shiba lascia il Real Giulianova per andare al Picerno Bartolini infuriato potrebbe lasciarlo subito fuori squadra davvero come leggiamo nell'attacco del pezzo un colpo di scena perché il portiere protagonista delle prime giornate di campionato ha deciso di lasciare la squadra e andare al Picerno in testa al Girone H sempre in serie D Notaresco quarto posto e grande figura al Manuzzi Cudini nulla da rimproverare ai miei ragazzi è in basso i turni infrasettimanali hanno stancato il Pineto la squadra di Amaulo ridimensiona i sogni di grandezza ma per chiudere il viaggio all'interno delle nostre di serie D andiamo in casa Vastese e anche in casa Avezzano perché ci sarà il derby Vastese da salvezza solo 200 tifosi ad Avezzano vediamo per domenica come disposto dalla prefettura dell'Aquila sono disponibili per i tifosi bianco-rossi solo 200 biglietti nominativi acquistabili domani per questo derby peraltro non sarà l'unico ci sarà anche Giulia Nova Notaresco noi ci fermiamo qui con la nostra rassegna stampa e vi ricordo alle 14 della prima edizione del nostro telegiornale mattino 6 ovviamente torna domani mattina alle ore 8 buona giornata e vi ricordo e vi ricordo la nostra rassegna stampa